Presidente, una grande giornata oggi per Verona, per l'Italia. Quali saranno i contenuti di questo appuntamento? I contenuti sono quelli che abbiamo sentito, ossia guardano al futuro e questo effettivamente è quello che ci riempie anche di orgoglio, avere la centralità della nostra città e anche della nostra associazione per temi che riguardano il futuro di tutto il mondo.